SIGLA Abbiamo una buona mitragliatrice, l'Oro Mille. E non si sa se le informazioni di Makarov sono affidabili. Price? Price? Una persona sana di mente non si sveglia la mattina pensando che quello sarà il suo ultimo giorno. Io però lo ritengo un lusso, non una condanna. Sapere di essere alla fine una libertà. L'occasione per tirare le somme. Senza armi, senza supporto, senza mezza speranza. Una missione suicida. Ma questa sabbia e queste rocce che hanno visto la guerra per migliaia di anni si ricorderanno di noi per quanto faremo. Perché tra tutti i nostri incubi peggiori questo è quello che noi stessi abbiamo scelto. L'avanziamo come un respiro esalato dalla terra. Con il cuore pieno di vigore e un solo obiettivo. noi lo uccideremo. che vediamo al punto di estrazione. Tra tre ore. non preoccuparti, era un volo di sola andata, amico. E allora, bocca al lupo, amico mio. Sob, rivelo un picco termico davanti a noi. Sì, la grotta deve stare oltre il grinale. Aspetta. Battuglia è nemica. Non sfarare. I dati intelligence di Macroferro non affidabili. Ci siamo. Bene, si stanno dividendo. Lascia che si separino. Meglio che questo codice valga il prezzo che l'abbiamo pagato. Situazione, Alfa. Piume a posto. Passo. Bravo. Tempesta di sabbia. Per ora non si vede granché. Passo. Zulu. Stiamo per iniziare la perlustrazione del canyon dall'accesso al nord. Passo. Osserve il gruppo a destra, giusto sotto di noi. Sistemiamo prima questi. Io penso ai due a sinistra. A mio segnale. Tre. Due. Uno. Via. Come ai vecchi tempi. Molto bene. Dobbiamo eliminare l'altro gruppo prima che torni. Uomersi. Presto. Andiamo su a sistemare gli altri. Sono in posizione. Spara. Non ci metteranno molto a trovare i corpi. Sì, muoviamoci. Ci siamo. Vieni qui. Principal 4, qui Oxide. Qual è il vostro stato? Passo. Principal 4, qui Oxide. Mi ricevete? Passo. Via. Ehi. Principal 4, alla strada della Cresta Nord. Non risponde. Magari è colpa di un trasmettitore di tecroni. Ho due tango qua sotto. Non risponde. Andiamo. Tango dritto davanti a noi. Aspetta a sparare. Battuglia in avvicinamento. A sinistra, presto. Lasciali passare. Batcher 7, qui Oxide. Abbiamo perso contatto con Disiple 5. Probabilmente la tempesta in arrivo e un trasmentitore difettoso. Mandate una squadra a verificare. Passo. Ricevuto Oxide. Vi mando Vincent e Lambert. Passo e chiudo. Togli di mezzo la guardia che fuma. Oppure aspetta che se ne vada. Buonanotte. Andiamo. Piano. Due tango nel corridoio. Non sparare e rimani a sinistra. Disiple 5, qui Oxide. Fatemi il rapporto. Passo. Sop, ci sono due tango muniti di torce in arrivo dalle scale sotto la luce rossa. Dritto davanti a noi. Io mi occupo di quello a destra. Al mio segnale. Tre, due, uno, via. A posto. Via. Disiple 6, abbiamo perso contatto con Disiple 5. Controllate, passo. In cima alle scale. È mio. Ricevuto Oxide. Siamo sulla passerella, verso la sauna. Rimanete in attesa. La sorveglianza delle attività sulla linea di rifornimento. Passo. Disiple 6, silenzio radio. Irrompere e ripulire. Ci siamo. Preparati. Carica sulla porta piazzata. Pronti a fare eruzione. Via. Eruzione, eruzione. Dentro. Operativo Foxtrot. Per lustrare a sinistra. Apri fuoco. Spara. Sono qui. Apri il fuoco. Tenetevi pronti. Stalateli. Adiamo. Disiple 9, la vostra retroguardia è appena andata. Impossibile. Abbiamo appena perlustrato l'area. È un price. Oxide, nessuno. È talmente... Prendi uno scudo antisommossa. Servirà un rivaro. Prendi posizione sfruttando lo scudo. E spero io a ogni resistenza. Sta giù con quello scudo. Guarda la visuale l'idea. Sta giù con quello scudo. Buonanotte. Buonanotte. E' a terra. Baccia, uno scende. Puoi di controllo al rifle. Preparatevi ascoltare col tecnico all'atterraggio. Col digle deve stare scena. C'è più tempo. Dobbiamo andare. Usano gli scudi, lancio delle granate. Faccio il video in scelta del settore KK Bank. Usano i visori termici per il fumo. Faccio il tensione, intanto per mettere vicino. Voglio fare un più spiace. Usano i visori termici per il fumo. Grazie a tutti! A tutte le unità qui in Coldnicol, attenzione, il sito è stato compromesso. Sto per eseguire la direttiva 116, bravo. Se sarete ancora qui dentro avrete un bel funerale. Passo e chiudo. Corri! Continua a correre, qui sta per saltare tutto! Excalibur qui, Cold Eagle. Ordine d'ingaggio, obiettivo Romeo. Pericolo ravvicinato. È nel raggio di 100 metri dalla vostra posizione. Non è un suggerimento. Inviatelo. Ricevuto. Ordine d'ingaggio. Pericolo ravvicinato. La tempesta di sabbia si intensifica. Troppi rischi per le attività aeree. Ho capito. Dirigetemi verso il tunnel. Useremo gli Zodiac. Sì, signore. Attraeremo gli Zodiac. Ciao. A presto! A presto! A presto!